Amici, proseguiamo 11-11 Memories we told. Quindi? Una mela, vuoi una mela. Ma non vuole una mela. Eeeh, non credo. Va bene, ho questo fino a quando tuo padre non impara l'inglese. Ne serviva una, eh. Ne serviva una. Ne serviva una. Ne serviva una. Ne serviva una. Qui dovrebbe essere finita. Ha ragione. Lo scriviamo la cassa. Eeeh, eccoci qui. Due mesi dopo. Questa è la cassa. Questa è la cassa. Questa è la cassa. Siostrza la cassa di Parisi. ok è il fatto più di spartare di questo e questo lo conosce ... no 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 niente quindi facciamo così ok ma non so come schievarlo perché ok ok lindu 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 mila wain osind lindu lindu bella ovviamente è ubriaco, ragazzo che non ho mai visto qui la fritts è riuscita, vedo la fritts è riuscita a te scoprire, fritts ma, beh, non ho scoperto ma sono curioso di questi piccoli souvenirs di te così molte cazuali americani dovrebbero essere abbastanza dimenticare questo è quello che hai per cercare una guerra, credo è finito, fritts tu hai scoperto tu hai scoperto tu hai scoperto come on, fritts mi hai qualcosa da lavorare qui? cosa abbiamo ancora qui? come hai scoperto? sei un spio o qualcosa? è un po' di spio è un po' di spio è un po' di spio stiamo calmi cosa hai scoperto con il mio son? devi provare a cercare di più, fritts sento un po' di spio sento un po' di spio non aiuto non aiuto non aiuto proviamo un altro aspettate un po' di spio queste sono un po' di spio come foto che ho scoperto da un mio amico queste sono le foto di Harry Lambert cosa hai fatto a lui? sono ascoltato, fritts Tu... tu conosci il nome. Non mi chiamare il nome. Mi chiamare, proprio come tu! Il ha visto come i suoi figli di me, e non ha fatto nulla! sempre immagino, share my photos with the world, go home this is you in this picture what the hell happened did you kill him is he dead answer me if I found out you hurt Harry you will beg me to kill you quickly I'm not here to talk about him it's not me I'm not here to talk about him 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 I want you Major Barrett oh he knows my name haha this just keeps getting better this is how you stay calm Sì You are the finest of men, Harry I cannot bear the far of a world without you in it I love you Now and always Go home The first chance you get Go home to your girl Last picture, Brits So what about this one Found this one in your inside pocket What's so special about it, Brits Hang on a minute That's me Now you've really got my attention And who's this young fellow I'm threatening Finger, finger, finger weg von dem Bild Finger weg, du Mörder Oh, Brits I have no idea what you're saying You should never have come here, Brits You see to me You're just one last little bit of war After fighting We're moments away from peace You and I Funny in a way How about a photo For posterity You understand? I'll get the camera Where's the camera But I'm coming out of here To be the camera I'm going out of here What's so special about this tour And I'll be back Loose not What's so special about this Is that drunkard I don't remember it clearly But I escaped And I ran Cazzo. Cazzo. ho messo il mio pensiero ho messo il mio amico e ho bisogno di aiutare volevo aiutare a Kurt ma per tutto quello che ho conosco mi uccionerà quindi ho lasciato la pigeone non sono più vicino e la città ha trovato Kurt ho spero che la volta ma prima ho dovuto arrivare e non ho pensato più vicino a e a 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 almost i hadn't heard it for over a year but i'd recognize that voice anywhere at first they were just two figures in the distance but the closer i got the clearer it all became it was barrett all right and kurt had found hiding is not one of your strengths i what was your plan just out of interest you come here you find what then you don't even speak english what were you planning to do well 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 harry harry lambert what the hell are you doing here harry no ho sbagliato i can explain everything harry what 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 i came here to save him i'm so sorry ah ok così i i i i i i are you fighting for please sir just tell us did you kill that prisoner back in vimy i don't know what he wants he's crazy no he's not crazy he's a father no he's not crazy he's a father it's war did you kill that prisoner back in vimy i i don't remember harry what's the german for probably i i look behind you fritz i've got far more guns than you have don't do this just get on your knees i'm sure he'll calm down i am your commanding officer lambert point that gun somewhere else no 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 sir please just call off the men and tell him what he wants to hear your name is max max waldner do you hear it? max waldner he was my young you think you're special just because you lost a son the moment he pulls that trigger your little friend here is dead he was my young no 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 that was going to marry and they are away you why how to give me the So, that was it. I lost everything They called me a traitor A fritz lover A yellow They still do Don't reap from me, Catherine For I do not deserve your tears I don't know how long I've left I suspect only minutes I go now to meet my maker Or maybe the devil If I'm so judged Barrett is dead I've done what I set out to do It's finished My task is complete My work is done Word spread Even here back home Taylor won't let me back in the store Julia won't speak to me I did what any father would do I would make the same choice again There's little point in pretending otherwise Please tell Luzi We gotta understand I couldn't shoot him He was my friend I can't stop I can't keep you up But it's been a bit I can't stop I don't know I don't know I don't know I can't stop I can't stop I can't stop I can't stop non mi è dispiaciuto ha secondo me dei piccoli problemi è un po' buggato e questo va a influire un po' sul gioco in generale perchè ogni tanto i sottotitoli spariscono completamente però ogni tanto i sottotitoli spariscono non sempre le scene in intermezzo funzionano nel modo giusto e c'è un'alternanza di eventi che non sempre funziona ecco e l'altro gioco fa il suo bello cattivo speravo di riuscire a salvare Kurt però ovviamente no io sono bravo e niente non mi è dispiaciuto non mi è non mi ha affatto dispiaciuto vi taglio il titolo di coda e vediamo cosa altro c'è se no semplicemente un riconoscimento per te nient'altro finisce così va bene non mi è dispiaciuto noi ci vediamo quindi con la prossima serie che non so bene cosa sa non so non so non so